buongiorno e benvenuti al museo del grande torino e della leggenda granata guarda questa è la ruota e l'elica dell'aereo che è caduto a superga questi sono tutti i lavori che hanno fatto i ragazzi della nonna e questa era la valigia del massaggiatore tu pensa che c'è ancora tutta la roba così come il massaggiatore l'aveva senti che si sente ancora l'odore andiamo a vedere le maglie guarda quante hai viste questa è la maglia di bacicalupo che si è ristretta lavandole anche perché non erano sintetiche grazie a tutti